Buonasera, ecco qua, stiamo con Francesca, ci troviamo a Rocca San Felice durante la festa medievale ti stai divertendo Francesca? Sì, è bellissimo, ti piace? Ok, Francesca da dove vieni? Pozzuoli Ah ecco qua, Pozzuoli in provincia di Napoli, è vero? Una bellissima cittadina sulla costa nel golfo di Napoli e da lì si va la bellissima isola di? Di fronte, da Pozzuoli, che traghetto si prende? Ah, poi andare a Procida, Ischia, anche Capri però più lontano Ecco qua, quindi tu sei una donna dell'antico mondo greco, vieni da quelle origini Francesca, davanti a te c'è il fango della mefite, raccolto da quell'incosciente di Raffaele Bertolini che una persona coraggiosa ha preso il fango per te, all'interno del fango c'è un dono per te una volta che lo prendi, poi lo laviamo con calma e metti la firma allora, la tua ricerca deve essere tranquilla e devi sentire la sensazione del fango oggi è il battesimo della mefite, prego Francesca andiamo andiamo, ecco qua con la sua mano sinistra, Francesca c'è un minuto di tempo, non avere fretta non avere fretta, sente la sensazione del fango bello è freddo, caldo, com'è? è freddo è leggermente fresco, freddo, bene, c'è il fango, stai sentendo il fango? si hai trovato qualcosa? si allora, quello è tuo, un attimo ci sei Francesca? vai ecco qua, Angelo che ci aiuta poggielo un attimo qua andiamo a mettere la tua firma, per favore ecco qua, questa c'abbiamo un'opera da 1000 euro che tu stai controguendo, Francesca, dove vuoi? non ti importa, vai, vai tranquilla dove vuoi, quello è il tuo posto hai fatto? vai, adesso vai giù nel bagno, ti porti il regalo lavi tutto, meno male che Francesca è sorridente vai Francesca!